Non si sono neppure presentati al tavolo di confronto convocato a Roma dal Ministero per lo Sviluppo Economico i rappresentanti della Becker, dell'azienda di Figline Valdarno, che ha annunciato il licenziamento di 318 lavoratori. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi, presente a Roma insieme alla sindaca Giulia Mugnai, ai sindacati e ad alcuni parlamentari, ha parlato di atteggiamento arrogante nei confronti delle istituzioni, analogo a quello tenuto verso i dipendenti. L'azienda non c'era, non si è presentata, continua un atteggiamento di arroganza, prima usato nei confronti dei lavoratori, mandando le lettere a casa quando i lavoratori erano ancora a lavorare, una cosa mai vista e mai sentita. Adesso ci sarà un incontro sindacale, poi saremo nuovamente riconvocati al Ministero. All'incontro, peraltro, non erano presenti neppure i rappresentanti del Governo, ma solo funzionari del Ministero. Auguriamo che alla prossima riunione ci sia anche il Vice Ministro, questo sarà importantissimo, perché stamani non c'era nessun esponente politico del Governo. E chiediamo al Governo di pronunciarsi e di richiamare subito la multinazionale alle sue responsabilità, anche con un pronunciamento pubblico. Insieme alla multinazionale Becchert bisogna richiamare in causa anche Pirelli. Pirelli era stata padrona di questo stabilimento fino a tre anni fa, un accordo commerciale ed è coinvolta, deve essere coinvolta in questa partita. A Becchert dobbiamo chiedere ovviamente immediatamente il ritiro dei licenziamenti e aprire un tavolo su cui discutere per continuare a produrre, come si è sempre fatto in Toscana, in questo stabilimento.